Nella provincia di Napoli, noi prendiamo 40.000 euro di regione Campania, nella provincia di Napoli 15.300, noi pensiamo che questa sia una soglia raggiungibilissima anche alle regioni, perché tutti gli amici che abbiamo a posizionare le famose banderine che noi pensiamo che i territori stanno rispondendo favorevolmente su questa candidatura di Enzo Casso. Altri hanno potenti mezzi, hanno molte risorse economiche, noi con il solito impegno, il modo artigianale nostro di fare politica, quello di andare a prendere nuovi voti, ma i consensi, pensiamo di potercela fare. È una lista competitiva Campania Libera, non poteva essere altrimenti se non ci sarebbero proprio cimentati. Noi puntiamo a fare i primi della lista, è inutile nasconderci dietro i paramenti. Pensiamo di avere una squadra che può fare primo, ma questo dipende molto da lui, oltre che da me ed Enzo. Io ho fatto una riposata stanotte, poi domani mattina, insomma già si parte fino al 31, quando chiuderanno i sergi non mi fermenò. Come farò io? Invito Enzo a fare lo stesso, ma conoscendo il suo carattere non può essere altrimenti, e dipende molto da voi. Non basta semplicemente portare a votare la famiglia, tutti quanti, pancia a terra, dobbiamo capire nei 92 comuni della provincia di Napoli chi abbiamo, chi si è sposato dove, quale parenti abbiamo, eccetera, perché dobbiamo cercare di avere cellule dappertutto. Dobbiamo essere un esercito che si muove con tanta passione. Serve in questo momento il lavoro di tutti quanti e lo sforzo di tutti quanti. È una borsa in salita senza altro, ma noi abbiamo un ottimo scolatore che si chiama Enzo Caso. Grazie. Devo dire, è forte l'emozione per chi, ancora una volta, mi ritrovo in campagna elettorale, per iniziare un'avventura molto meravigliosa, perché fatta di tante esperienze che già si sono messe insieme e che già hanno caratterizzato il mio percorso. Vedo tanti amici che nel 2007, anche precedentemente, mi hanno accompagnato a due traguardi importanti, l'essere sindaco di questo nuovo paese. Un traguardo importante che ha visto il raggiungimento di tanti obiettivi. Io voglio passare subito a quella che è la nuova avventura, il nuovo impegno che insieme stamattina inauguriamo. Lo voglio fare salutando Peppe Barra innanzitutto, perché è stata la persona che più vicino a me ha convinto a fare questa scelta, perché insieme a me ha trovato e ha capito che è necessario l'entusiasmo di un territorio che si muove per cambiare quelle che sono le sorti di una campagna mortificante. Lo dobbiamo fare partendo dai territori, coniugando le esperienze dei territori, portando come valore l'esperienza che abbiamo vissuto quotidianamente insieme ai cittadini, insieme alla gente, insieme alle famiglie. Vi devo dire che il nostro programma, la nostra azione partirà proprio da questo, partirà dalla famiglia, perché deve ritornare al centro dell'attenzione regionale la famiglia, deve ritornare al centro dell'attenzione regionale la famiglia intesa come sicurezza, come salute, come tutela dell'ambiente, salvaguardia del territorio, innovazione, tecnologia. Questi devono essere i punti focali di un'azione che deve contraddistinguere il nostro operato per i prossimi cinque anni. La regione Campania viene da un momento difficile. Io, come tutti i sani, non appartengo a nessun partito, non sono iscritto in nessun partito e per questo mi sono avvicinato e ho deciso di aderire alla lista Campania Libera, perché in modo trasversale dobbiamo condurre un'azione diversa, differente da quella portata avanti negli ultimi anni. Quando dico trasversale lo dico perché sono convinto che anche coloro che hanno avuto l'opportunità di rappresentare la nostra regione in colori diversi, da sinistra a destra, bene, questi l'occasione l'hanno persa e quindi dobbiamo andarli a sostituire, dobbiamo andarli a sostituire facendo un'iniezione nella nostra regione di entusiasmo vivo, fatto di passione, fatto di persone che quotidianamente affrontano le questioni che riguardano i nostri punti. Bene, deve cambiare la comunicazione tra la regione e i comuni, questo è il primo aspetto fondamentale. L'esperienza da sindaco mi ha fatto capire che ancora sono tanti gli ostacoli che purtroppo quotidianamente gli amministratori degli enti locali, delle comunità che rappresentiamo trovano ogni qualvolta, se devono interfacciare, devono interrompire con quella che è la regione. Questa è una distanza che bisogna assolutamente colmare e bisogna farlo portando i nostri rappresentanti in regione campana. È chiaro che stamattina noi apriamo un punto operativo sul nostro territorio qui a Fratta Minore e di questo voglio ringraziare i tanti amici, i consiglieri comunali, tutti, che mi hanno fatto questa sorpresa, perché meppe devi sapere che io non ne sapevo quasi nulla fino a ieri sera. Hanno deciso loro di creare questo punto operativo per fare in modo che tutti i nostri amici possano avere come punto di riferimento questa location per venire a prendersi materialmente tutto il necessario per iniziare questa importante e difficile sfida. Io sono veramente emozionato, ma nello stesso tempo sono anche convinto che insieme possiamo farcina, perché abbiamo tutte le caratteristiche che servono a scontarla all'interno di questa lista e a scontarla anche come coalizione. Sono convinto che insieme a Enzo De Luca, che è il nostro ispiratore, colui che più di tutti ha ispirato anche la nostra azione di governo cittadino, Peppe Barra faceva riferimento alle nostre esperienze di sindaco di questi territori. Bene, noi abbiamo voluto sostenere un Presidente che si è contraddistinto per la concredenza, che si è contraddistinto per il fare, che si è contraddistinto per le opere realizzate nella sua Salerno e che vuole portare questa magnifica e meravigliosa esperienza nell'intera Regione Campania. Io credo che sia il miglior modo per affrontare le tante sfide che si presenteranno a breve. La mia candidatura è una candidatura di territorio, è una candidatura che deve essere la continuità di una presenza quotidiana e di una disponibilità H24 che dobbiamo avere nei confronti di queste persone che con grande coraggio si candidano a rappresentare le nostre comunità, comunità che più di una volta sono state mortificate, più di una volta sono state abbandonate, più di una volta sono state lasciate a se stessi. Io credo che le azioni da intraprendere sono necessariamente quelle del lavoro. Abbiamo il primo posto solo per disoccupazione in Campania e questo è un dato che deve essere assolutamente ribaltato. Non è possibile che in Regione Campania un giovane su due, qualche anno fa su tre, oggi su due non lavora. E nello stesso tempo la cosa che più farà brividire è che non ci sono prospettive, non si sono creati presupposti per prospettive concrete di lavoro in questa Regione. Non è possibile che la Regione Campania è il fanalino di coda per lo sviluppo del PIL, avendo a disposizione ricchezze enormi. Abbiamo un potenziale enorme da dover sviluppare, abbiamo un potenziale enorme da poter valorizzare. Io credo che un altro impegno forte, che sapete tutti, contraddistingue il mio operato qui a Fratta Minore, il mio impegno anche nella provincia di Napoli, è la tutela, la valorizzazione, la salvaguardia e il rilancio del territorio. E soprattutto la tutela dell'ambiente nel quale quotidianamente viviamo insieme alle nostre famiglie. Guardate il binomio che si è creato in questi anni di poca attenzione alla salute e nello stesso tempo poca attenzione all'ambiente è un binomio terrificante che sta mettendo già tantissime vittime e rispetto al quale noi dobbiamo sentirci animati per fare in modo che la Regione Campania possa diventare una Campania virtuosa, una Regione virtuosa. Quando dico virtuosa non mi riferisco soltanto a quelli che sono gli slogan legati alla raccolta differenziata dei rifiuti. Questa è un'altra fantasia che deve essere in qualche modo comunicata meglio perché la Regione Campania è, grazie ai cittadini e grazie al lavoro enorme che hanno condotto i sindaci della provincia di Napoli, è la terza Regione d'Italia per raccolta differenziata. Ma nello stesso tempo è anche la Regione che ha maggiori difficoltà per portare avanti in modo corretto la filiera per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Il grande impegno che ci deve vedere i protagonisti deve essere quello di creare l'impiantistica necessaria a fare in modo che gli sforzi di queste comunità possano essere tradotti in risparmio per le nostre famiglie. Allora non tutti sanno che ancora una volta, ancora oggi, noi dobbiamo fare i conti con un'assenza vergognosa di impiantistica nella nostra Regione Campania. Non è possibile che in Regione Campania si paga il triplo per lo smaltimento dell'organico solo perché si è deciso di non realizzare un solo impianto per il compostaggio. Non è possibile che in Regione Campania non ci sia la capacità e non si sia sviluppata ancora oggi la capacità per controllare i flussi che vengono da fuori regioni. E quando dico i flussi mi riferisco ai rifiuti industriali. Non è possibile che in una regione dove per buona parte c'è un'assenza di industrie ospiti maggiore flusso di rifiuti tossici industriali. Bene, questi sono i presupposti per iniziare un percorso nuovo, per iniziare un percorso concreto, per iniziare un percorso fatto di iniziative che insieme dobbiamo tradurre in realtà. Io non voglio dilungarvi, voglio soltanto dire che stamattina per me inizia la campagna elettorale che così come negli anni passati ho fatto a Frattaminore farò in tutti i 92 comuni della provincia di Napoli. Lo farò andando a trovare i cittadini, raccogliendo le istanze, le esigenze, raccogliendo le esperienze che questo magnifico territorio della provincia di Napoli sa dare e che ha. Io credo che farsi un giro nella provincia di Napoli fa capire tante cose, fa capire che abbiamo tante questioni da affrontare, ma nello stesso tempo ci riempie anche di entusiasmo perché sappiamo insieme che la provincia di Napoli ha tante potenzialità, basta guardarsi intorno e non restare indifferente. Ma il traguardo che ci dobbiamo prefissare, viste le grandi potenzialità che colorano la nostra regione, è primi in Italia. Questo è il problema. Grazie a tutti.